Siamo al molo di Moltrasio, c'è gente in costume da bagno al 30 di dicembre, com'è questa storia? Tradizione Moltrasina da ben sei anni. Siete voi gli organizzatori? Esatto, ci troviamo sempre il 30 dicembre alle 11 a fare il bagno, pronti, carichi, chi vuole venire ci segue. Ma com'è nata questa idea? Ma così, per divertimento. È nata anche per sfida, per coraggio personale. Ma avete idea di che temperatura c'è nell'acqua? Sarà più alta di fuori sicuro. Esatto. Più alta di fuori sicuro. Di solito l'acqua è sempre un paio di gradi più calda dell'area esterna. Sentite, voi siete due temerari, non lo mettiamo in dubbio, ma come avete convinto tutte queste persone a fare il bagno con voi? Ma da un lato dobbiamo ringraziare le persone stesse perché se l'hanno deciso è anche grazie a loro, però dobbiamo tanto Facebook perché è stato... Facebook, social network e mass media. È stato grazie a loro. Passaparola. Saremo qua a guardarvi. Perfetto. Grazie mille. Ma scusa, la giocca te la togli, vero? Sì, no, sono già in mani più corti. Tu, la prima volta che ti butti... La prima volta che ti butti. Eh? Ma chi te l'ha fatto fare? Ma che ne sono Jonathan, così capisci l'è di Umberto. Seppiva il 2013. Ma è la prima volta che... La seconda. La seconda, quindi ti è piaciuta la prima volta. Moltissimo. Tutti subito uscire. Com'è, com'è? E' bruttissimo. Fredda? Cazzo, ho visto un pinguino sott'acqua. E' il mio è su. C'è il vento. I just went into the water. Freschina, eh? Eh? Freschina? No, appena appena. Finito qua, un tuffo proprio veloce. Guarda questo signore. Vi ralassate in prossima, passo a passo. Fatte bisogno di un proizzerato. Vi schievo il ROLE. La famiglia è 64 anni. Fare Data, molto bene crap. Casi ce l'ho venito, sono Youtube. In quanto riguarda il possible n notificato diciamo出來. bella ragazzo bravissimo come è stato questo bagno bellissimo bello tiepido si non era freddo dire che la temperatura giusta la mattina sempre così ma se siete stati dentro un minuto grazie grazie